Un camion attrezzato con palco e luci per portare in giro i candidati alle elezioni europee. Pierfrederando Casini ha presentato oggi la campagna elettorale dell'Udc. Vediamo il servizio di Danilo Scarrone. Casini indica la strada, si trova al centro, tra destra e sinistra, chiede voti agli elettori delusi del PDL e del PD. Parte da Guidonia nei pressi di Roma il tour elettorale dell'Udc che vuole guidare il processo politico per la costituzione di un grande centro moderato che privilegi i temi etici, la centralità dell'uomo e la difesa della vita, che difenda la famiglia e promuova lo sviluppo sostenibile. Gireremo l'Italia con i nostri candidati, con il nostro track centro per centro per parlare con la gente che intanto, grazie a noi, ottiene un risultato concreto, il voto di preferenza, la possibilità di scegliere i propri parlamentari. Casini parla anche dell'attuale maggioranza di governo che continua a ricorrere alla fiducia perché divisa al suo interno. L'esempio è il provvedimento sulla sicurezza. Navigano al buio, ci sono troppe contraddizioni tra di loro, ogni volta che c'è un voto segreto vengono battuti. Dai medici spia, ai professori spia, alle ronde spie, non è questo il modo di affrontare il tema dell'ordine pubblico. Bisogna dare più mezzi ai carabinieri e ai poliziotti. Con le spie non si va da nessuna parte. Grazie.